Il governatore della Campania ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di euro per finanziare una strada da Sansa al Monte Cervati, la vetta più alta della Campania, a 1899 metri, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. È positivo che il Cervati sia oggetto di crescente interesse delle istituzioni e di associazioni di promozione turistica, ma la cementificazione fino alle vette montane più alte è una scelta sbagliata perché compromette l'ecosistema del territorio con la circolazione dei mezzi motorizzati e l'inquinamento ambientale ed acustico. Lega Ambiente ritiene che i programmi di sviluppo devono invece essere ecocompatibili con un territorio che dal 2010 rientra nella rete dei geoparchi, parchi naturali caratterizzati da particolari aspetti geofisici e da una strategia di sviluppo sostenibile. Gli obiettivi da perseguire devono essere quelli di un turismo di montagna ispirato ai seguenti principi, sostenibilità, valorizzazione del territorio con interventi a basso impatto ambientale, tutela dell'ambiente, conservazione della cultura e delle tradizioni locali, produzione e commercializzazione dei prodotti tipici, limitazione del traffico motorizzato. Invece di cementificare i sentieri di montagna, occorre un serio piano di investimenti per la mobilità nel Cilento, intensificando e migliorando le vie del mare e il trasporto ferroviario e soprattutto garantendo una costante manutenzione alle dissestate strade del territorio cilentano. Grazie. 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 Grazie.